L'errore c'è stato, non ci interessano le colpe, però vogliamo vederci chiaro. Stefano Molinari, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, commenta così la notizia del pasticcio sul bando per affidare i lavori di bonifica dell'ultima porzione di terreno dell'area ex-ticosa, la cosiddetta cella 3 che si trova dietro all'edificio della Santarella. Abbiamo chiesto all'assessore competente Marco Galli di fornirci tutte le spiegazioni necessarie per comprendere cosa sia realmente accaduto, aggiunge Molinari. Il Comune ha infatti avviato il procedimento di annullamento della procedura di gara a causa di vizi nella documentazione del bando indetta a febbraio 2020, come riporta una nota di Palazzo Cernezzi. È legittimo da parte delle opposizioni chiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta sul bando per la bonifica dell'aticosa, noi però siamo una forza di maggioranza e preferiamo avere le giuste spiegazioni in altra sede, continua Molinari. Attendiamo dunque una relazione da parte dell'assessore. Infine sulla mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore all'ambiente di Palazzo Cernezzi lanciata nei giorni scorsi dal consigliere Alessandro Rapinese alla domanda se ci possa essere qualche francotiratore Molinari conclude per esperienza personale tutto può accadere, sottolinea anche ci fossero i numeri è un atto non vincolante, la parola finale spetta al sindaco.